Mi chiamo Francesca Ursetta, faccio il secondo anno di Fumetto Comics. Adesso stiamo lavorando con Luca Ferrara per fare un fumetto che è stato preso da una lettura che abbiamo fatto in classe. Lo stiamo facendo in gruppi con i ragazzi di terzo anno. Nella mia vita mi è sempre piaciuto fare fumetto e spero un giorno di fare questo lavoro.